Se non intervengono siamo disposti a non mandare i bambini a scuola per un fatto di principio e di pulizia. Noi ci teniamo per i bambini, non è che li mandiamo a scuola per essere libere, per andare camminando, ma li mandiamo per avere comunque un'educazione più stabile per i bambini. Ancora una volta si sono ritrovate all'ingresso del municipio di Via De Nicola per chiedere migliori condizioni di vivibilità nelle scuole. Sono un gruppo di mamme quartesi, questa volta del plesso Rodari, afferente al primo circolo didattico di quarto, che questa mattina, dopo diversi solleciti, hanno deciso di recarsi personalmente al comune per esporre a chi di dovere le disastrose condizioni in cui versa l'area che circonda il plesso scolastico. Uno spazio che negli scorsi anni, con l'arrivo del bel tempo, veniva utilizzato dalle maestre della scuola dell'infanzia per far giocare i bambini all'aperto, ma che da quest'anno è divenuto inaccessibile. Stiamo provvedendo a cercare di far muovere un po' la situazione che questi bambini è diventata una scuola comunque invivibile tra erba alta più di un metro, topi, colombi morti e per noi sinceramente non è sanitario questi bambini che comunque devono entrare e parliamo di bambini da due anni e mezzo in poi fino a sei anni che poi andranno alle elementari. Le erbacce alte che circondano tutta l'area sono causa di malessere per bambini affetti da patologie di natura allergica oltre a rendere l'atro della scuola indecoroso. E cosa ben più grave, a detta dei genitori, capita non di rato che da questa vegetazione incolta venga fuori un ratto. I topi non sono i soliti ospiti indesiderati. Succede come del resto può accadere in tutti i luoghi all'aperto che si trovi il cadavere di un piccione all'ingresso dell'edificio e che nessuno provveda a rimuoverlo. Lo scorso 31 marzo, dopo le prime rimostranze da parte delle mamme, il dirigente scolastico del secondo circolo, Franco di Fraia, ha provveduto a protocollare presso il comune una richiesta urgente per il taglio dell'erba e la bonifica delle aiuole del plesso Rodari, come anche del plesso Falcone e del plesso Borsellino. Inoltre il dirigente ha fatto richiesta di una urgente deratizzazione per l'area esterna della Rodari. Abbiamo parlato con i vigili, siamo andati al comune, con la preside non ci hanno fatto modo di parlare. Avete avuto risposta dal comune, dall'ufficio tecnico? Sì, provvederanno, non si sa quando però. Una richiesta passata però inosservata, stando a quanto dichiarato dalle mamme questa mattina, secondo le quali nessuno al comune era al corrente della richiesta protocollata quattro giorni fa. Ma la protesta di questa mattina pare essere servita. Già nel primo pomeriggio, infatti, sul posto, si è recata una squadra di operai della ditta incaricata delle pulizie e del verde pubblico per procedere con il taglio dell'erba e la bonifica delle aiuole. Un intervento tempestivo che ha scongiurato una nuova protesta dei genitori, disposti anche a non mandare i piccoli a scuola, fino a che la situazione non si fosse risolta. Grazie. Grazie.